perché la divina comedia ha avuto così successo è un capolavoro della letteratura mondiale e scritte in versi e in decasitapi è un'opera estremamente musicale è un'opera con un ritmo incalzante il suo testo è scritto in versi ed è facilmente leggibile e memorizzabile è un poema allegorico in questa maniera il lettore ha una funzione attiva nel testo deve comprenderne il suo significato esportando il significato simbolico del testo Dante risponde ad una domanda essenziale che tutti gli uomini da quando sono arrivati sul pianeta terra si sono sempre posti esiste una vita dopo la morte Dante dà una risposta chiara sì esistono tre regni dopo la morte l'inferno il bucatorio il paradiso se avete individuato altri motivi per cui secondo voi la divina comedia ha avuto così successo potete scrivermelo nei commenti ciao al prossimo video ciao al prossimo video ciao 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 ciao